Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori barbecue elettrico. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 dei migliori barbecue elettrico. Quindi cominciamo con il barbecue elettrico del Suntech Wellness. Cominciamo con questo barbecue elettrico economico dato che abbiamo un barbecue a meno di 100 euro grazie ad uno sconto del 25%. Questo barbecue elettrico è un'ottima scelta per le persone che non vogliono necessariamente avere un barbecue di fascia alta ma che sono semplicemente alla ricerca di un barbecue semplice da usare per divertirsi con gli amici o la famiglia. Questo barbecue ha tuttavia una potenza molto buona tra 2000 e 2400 watt per grigliare le vostre carni, verdure o altro molto facilmente. Inoltre è molto facile da spostare grazie alle sue ruote ed è leggero e compatto e può essere utilizzato in un giardino così come su un balcone o una terrazza. Ciò che ha anche grande è il suo supporto laterale che permette di lasciare il piatto con la carne per fare tutto molto facilmente e anche per appendere gli utensili di cui abbiamo bisogno per preparare deliziose grigliate senza sforzo e rapidamente. Poi troviamo il barbecue elettrico Clarstein Gatsby. Passiamo ora a un modello leggermente più alto con questo barbecue elettrico Clarstein. Questo barbecue ha un buon prezzo di circa 150 euro ed è quindi uno dei migliori rapporti di qualità prezzo che si possano trovare. Inoltre il design è assolutamente magnifico e molto pratico. Infatti su ogni lato della griglia troverete un supporto per mettere tutto il necessario per cucinare con l'olio i vostri utensili, i condimenti o anche il piatto con i vostri ingredienti. Inoltre sotto la griglia c'è una rastrelliera più grande per avere ancora più spazio. Il livello di potenza di questo barbecue è anche molto buono con 2000 watt di potenza. Il fatto che sia elettrico è molto pratico perché non hai bisogno di nulla se non di una spina per farlo funzionare quindi è molto pratico soprattutto quando lo usi su un balcone o una terrazza. La piastra della griglia è ovviamente di ottima qualità ed è antiaderente. Inoltre questo barbecue è facile da spostare grazie alle sue ruote. C'è anche un corperchio per proteggere la griglia quando non è in uso. E per finire ecco il barbecue elettrico Weber Q 1400. Passiamo ora al modello di punta di questo top con il barbecue elettrico Weber. Nel campo dei barbecue Weber è un must. È davvero la marca che ha saputo individuare le esigenze di tutti e ha saputo creare modelli di qualità davvero elevata. Anche se sono più specializzati in grandi barbecue a gas, questo barbecue è comunque una scelta eccellente. Infatti è un modello compatto che è estremamente facile da usare e da spostare. Che sia in un giardino, su un balcone o una terrazza troverete un posto per installarlo e poi godere di un momento piacevole con la famiglia o gli amici. Inoltre la griglia di cottura è perfetta per grigliare le nostre carni, verdure e altre nel miglior modo possibile. Inoltre è facile da pulire e c'è una trappola per il grasso, facile da rimuovere e svuotare. Ecco, grazie per aver seguito questa top 3. Spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale. È sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo il link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa notati di qua presto per un nuovo video.